Iniziamo mettendo 3 giri d'olio in una pentola ad aderente. Aggiungiamo le spezie. Tagliamo a fette la bistecca disossata. Tagliamo le spezie. 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 Dopo circa 5 minuti, quando si è formata questa cremina, la carne è pronta. Tagliamo la carne di manzo alla pizzaiola, facile e gustosissima. Iniziamo scaldando l'olio con l'aglio. Tagliamo 2 spicchi di aglio. Tagliamo le fette di carne nella padella. Le facciamo cuocere un minuto per lato. Uniamo i pomodori tagliati. Tagliamo i pomodori tagliati. Tagliamo la passata di pomodoro. tagliamo due minuti per al CLI. dobbiamo cuocere circa cinque minuti, dopo circa cinque minuti scopriamo e uniamo le olive tagliate, un cucchiaio di tappeli e un pizzico di origano. Abbiamo fatto cuocere circa 15-20 minuti la carne, alla fine aggiustiamo il sale. La giriamo e spengiamo. Carne alla pizzaiola pronta. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!